Alla moglie continuava a dire di stare tranquilla ma aveva già accumulato debiti per oltre un milione di euro. L'uomo che a Trento ha ucciso i suoi due figli e poi si è tolto la vita. Una discesa senza freni. Il nonno paterno e la sua mamma si fermano ad aspettare Sara. Insieme sono appena stati al cimitero di Trento a far visita a Marco e Alberto, i suoi due figli, uccisi dal papà Gabriele Sorrentino a colpi di martello. Camminano vicino, il nonno sfiora il braccio della nuora, sembra dirle coraggio. L'ultimo saluto a quei due piccoli questa famiglia ha chiesto di poterlo dare in forma strettamente privata. Abbiamo visto sempre contenti, sempre erano felici, così abitavano tutti insieme, vicini. Con i nonni. La famiglia perfetta come quelle della pubblicità. Erano questi i Sorrentino fino a lunedì scorso. Papà, mamma, tre figli, i tre cani, i nonni. A tenerli uniti era solo il castello di bugie costruito da Gabriele con i suoi estratti conto fasulli e quella storia del portafoglio di investimenti da 15 milioni di dollari. Invece i soldi erano finiti, le bollette e le rate dell'affitto per la casa si stavano accumulando. La data del rogito sempre più vicina. 1.200.000 euro era la cifra necessaria per riscattare l'attico di lusso. Più o meno la stessa cifra che Gabriele Sorrentino aveva accumulato in debiti. Questo stanno verificando gli investigatori frugando e setacciando i suoi investimenti e movimenti bancari. Hanno venduto l'appartamento di Mesa Corona, dunque aveva un certo gruzzolo iniziale. I risparmi svaniti giocando in borsa, ma Gabriele non rinunciava a vivere alla grande. In casa i Deplian per l'acquisto di un nuovo SUV di lusso. Intanto chiedeva in prestito i soldi al padre per fare benzina all'auto con cui accompagnava i suoi figli a scuola. Presto tutti avrebbero capito, per questo ha ucciso i suoi bimbi. È salito al belvedere e prima di togliersi la vita ha detto l'ultima menzogna, un sms alla moglie. A casa tutto tranquillo. Una persona che faceva vedere sempre bel tempo, anche se era brutto tempo. L'uomo di successo che voleva sembrare non poteva nemmeno chiedere aiuto agli amici. Avrebbe significato gettare la maschera. Ammettere di aver fallito.